Ciao, sono Stefano Fontanesi e oggi, in questo video, ti presento quelle che saranno le novità del 2019. Sì, perché nel 2012 noi ricevemmo un importante premio come miglior club in Italia per l'innovazione, per la qualità e anche e soprattutto per lo staff. Bene, insieme allo staff quest'estate, nel 2019, abbiamo inventato, creato, programmato una nuova Eden che molto probabilmente, molto molto probabilmente, il 5 di maggio presenteremo il programma estivo e da lì partirà anche l'orario estivo e anche questa è una novità importante e insieme allo staff abbiamo, quindi preparati, perché quest'anno ci saranno delle novità veramente paurose per l'estate Eden 2019. I soggiorni? Beh, quest'anno i soggiorni è un qualcosa di veramente unico e eccezionale perché il sottoscritto ha la fortuna di collaborare quest'anno con Mira Hotel, che sono hotel di lusso, mi giro per l'Italia e io sarò il responsabile tecnico organizzativo delle attività sportive all'interno di questi hotel e il responsabile dei personal trainer che erogheranno il servizio in questi club esclusivi. Bene, mi danno la possibilità di organizzare all'interno di questi club, ne ho scelti due in particolar modo, delle cose particolari, delle vacanze specifiche quindi insieme allo staff dell'Eden abbiamo creato settimane fitness, settimane pilates e zumba, settimane di sparta questa è una novità importante, assoluta, nuova di quest'anno dove parteciperemo anche alle gare sparta perché sono molto divertenti oltre che a rimanere in forma settimane legate per la famiglia e anche questo ormai sono già anni che ci lavoriamo ma quest'anno anche qua ci sono novità molto belle una settimana dedicata alla postura qua ci sarà anche Vincenzo Canali in una settimana di questo se hai voglia di farti analizzare da cima a fondo e venire a casa con un programma posturale perché magari sei un atleta amatore, sei uno che ama l'attività fisica ma magari ogni tanto inciampi con qualche dolorino magari ecco qua ti risistemiamo, ti riorganizziamo poi c'è una novità anche questa importante, assoluta che riguarda la crescita personale e professionale anche questo diventa molto un prodotto molto potente quindi quest'estate rimani con noi e entro la fine di gennaio hai la possibilità di portare a casa un prodotto pazzesco ad un prezzo veramente molto molto competitivo anzi forse il più basso che puoi trovare nel mercato poi a febbraio se ti iscrivi a prenoti a febbraio diventa un pochino più alto, a marzo ancora un pochino di più quindi se vuoi il massimo della convenienza attivati immediatamente, ti diamo immediatamente informazioni rispetto a questa cosa per avere il miglior prezzo che ti garantisco è quello migliore in assoluto grazie a tutti